Buongiorno, buona domenica, benvenuti all'appuntamento con la Rassegna Stampa, oggi è giorno anche di partita, ne parleremo nelle pagine sportive dei quotidiani per un Udinese Genoa che si annuncia una partita carica di tensione perché l'Udinese ha necessità di riprendere a fare risultato e di cominciare a far punti, a vincere, ma ne parleremo quando andremo ad approfondire il tema dello sport. Adesso cominciamo invece con la cronaca perché sul nostro sito internet abbiamo pubblicato una notizia che è arrivata poco fa, un aggiornamento che ci parla di incidenti tra Udine e La Tisana, due a La Tisana e uno a Udine con due auto che sono finite contro un palo, i conducenti hanno perso il controllo dei mezzi finendo contro un palo ed un giovane di 24 anni che è stato invece a La Tisana investito questa notte, è stato ricoverato in codice giallo quindi con ferite piuttosto sedie ma non in pericolo di vita. Una trentenne invece è stata soccorsa a La Tisana nella serata di ieri per un incidente in piazza Garibaldi per causa in corso di accertamento, la donna ha perso il controllo dell'auto ed è finita contro un palo, è stata soccorsa al personale medico sanitario ed è stata poi trasportata all'ospedale di La Tisana per fortuna con ferite non gravi ancora a La Tisana, come dicevamo del 24enne che è stato investito mentre camminava, investito da una vettura in un sottopasso soccorso dall'equip sanitaria di un'ambulanza proveniente della Tisana, è stato poi portato in ospedale anche lui in codice giallo come dicevamo. Infine di questa di ieri sera alle 22.30 la notizia dell'incidente che è avvenuto in via del Bonaudine con una donna di 54 anni che ha perso il controllo della vettura che stava conducendo e è finita contro un palo, non c'è stato il coinvolgimento apparentemente di altre vetture, gli infermieri hanno preso in carico della Sores la chiamata al 112 inviando poi un'ambulanza da Udine Nord, la donna è stata trasportata con ferite non gravi all'ospedale Santa Maria Misericordia di Udine questi gli aggiornamenti con gli interventi di ieri in tarda serata da parte della coordinati dalla Sores. Andiamo a vedere invece sull'agenzianza quali sono le ultime notizie, arrivano dalla Slovacchia con le elezioni che hanno visto vincere il partito del filo russo Fico, le elezioni parlamentari andando in contrariamente quindi contro il pronostico delle previsioni iniziali, i socialdemocratici nazionalisti di sinistra dell'ex premier filo russo Robert Fico hanno vinto le elezioni parlamentari in Slovacchia, questo il quadro delle ultimissime notizie che riguardano anche l'ultima ora dove troviamo la stessa che abbiamo appena letto sull'esito delle elezioni in Slovacchia. Il momento adesso di andare a sfogliare i giornali andiamo sul Corriere della Sera per aprire come ogni mattina la nostra l'assegna stampa qui si parla di deficit del nostro paese, più deficit per il rilancio, un disavanzo a 15,7 miliardi previsto per il 2024. Giorgetti, ora necessarie scelte difficili, la nota sul quadro economico, un decreto per adeguare pensioni e stipendi pubblici all'inflazione. È il momento di preparare la manovra e quindi si discute su come, visto che ci sono tante esigenze e pochi soldi. La Repubblica si occupa dello stesso argomento, Nadef, coperture virtuali, il governo prevede di trovare 20 miliardi dalle privatizzazioni, fondi che richiederebbero un piano colossale di dismissione. Il deficit extra sarà di 23,5 miliardi in tre anni. Giorgetti, situazione delicata, Confindustria, tassi e prezzi, frenano l'economia. E poi parla Landini, qui nella voce del sindacato, che dice penalizzano le pensioni, ignorano i salari. Valutiamo lo scioper. Poi il decreto sulle espulsioni, il giudice rilascia i migranti, illegittimo tenerli nei centri. Problematica migranti sempre molto presente ogni giorno sui giornali, in tv ed anche sul nostro canale. La stampa, manovra, incubo, debito, la situazione dedicata. Quindi molti giornali oggi si occupano di questo argomento e cioè delle finanze dello Stato. Giorgetti, servono scelte difficili, interessi passivi verso i 100 miliardi. Il fatto quotidiano titola così, scrivono le leggi coi piedi e danno la colpa ai giudici. Catania, il tribunale disapplica il DL migranti, viola le norme dell'Unione Europea. Salvini a testa bassa, Nordio, pompiere su IPM, Conte e Schlein, durissimi su prescrizione e Trojan. Andiamo a vedere l'identità che titola così, poveri ma verdi. La foto è quella di Elisabeth von der Leyen nella transizione energetica e il riarmo. Sono i nuovi mantra europei. Chi paga sono i vecchi contribuenti italiani che vedono le mani di Bruxelles sulle auto, sulle case e sulla spesa quotidiana. Storia di un nuovo comunismo per ricchi che si chiama Ecologia 2.0. Vediamo il Gazzettino, edizione generale, poi andremo nel dettaglio di quelle che sono le notizie per quanto riguarda la nostra regione. Migranti, scontro, governo giudici, il caso è quello di Catania. Trattenimenti illegittimi, il tribunale fa uscire dal 103 tunisini. Salvini serve una riforma della giustizia, il biminale fa ricorso. L'Associazione Nazionale dei Magistrati dice, è la democrazia. Tragedia sul lavoro, muore schiacciato contro un camion e è caduto a Treviso, l'incidente in Cava a Spresiano, la sponda del cassone è caduta sull'autista che purtroppo non ha avuto scampo. Andiamo a leggere adesso la verità. L'apertura del quotidiano di Maurizio Belpietro è questa, giudici col turbo sui migranti, già respinti i piani del governo. Clamoroso provvedimento in Sicilia, il biminale lo impugna. E poi a due settimane dalle nuove norme volute dall'esecutivo per snellire l'impatri, una toga di Catania nega la possibilità di trattenere quattro tunisini, due dei quali già da espellere. Bisogna mettere mano alla giustizia. Sigle, navi, soldi. Le organizzazioni non governative due pagate da Berlino ci hanno portato 6.700 clandestini. E poi esce allo scoperto l'amica del sindaco Ott, ora basta infamio, lungo post della donna, sospettata di essere nel video col primo cittadino di Santa Marinella, vittima di un circo mediatico, non centro con le inchieste in paese, fare puntati sui ricchi affari immobiliari di T-Day e della sua famiglia. Ci spostiamo adesso su Libero. Scafisti in toga, sfida dei giudici al governo, migranti liberati perché inseguiti dai creditori o ricercati dai cercatori d'oro, raffica di sentenze contro le leggi, antisbarchi, festa sulle navi dei clandestini e schizzano le spese per accoglierli. Ancora all'Unione in Emilia, crollano le bugie PD, gonfiate le stime sui danni. Questo è un altro argomento che troviamo oggi sul Quotidiano Libero. Ci spostiamo sul giornale, i magistrati ci riprovano sconfessati i decreti sicurezza, migranti rimessi in libertà e le toghe rosse tornano a Tangentopoli, resistere, questo è il titolo del giornale per quanto riguarda l'apertura e poi cattivi maestri, il prete che insegna come occupare casa. E qui vediamo in foto, Don Giusto della Valle, parroco di Rebbio. Andiamo sul manifesto per chiudere la rassegna prima di dare un'occhiata anche al Sole 24 ore con argomenti più specifici. Carta vince sul manifesto, il governo è andato contro le norme europee e contro anche la Costituzione. I decreti antimigranti di Meloni e Pianterosi cadono davanti ai giudici, no alla detenzione discriminata di chi chiede asilo, no alla taglia di 5.000 euro ma all'esecutivo insiste, faremo ricorso. Il Sole 24 ore, il quotidiano economico finanziario che titola così concordato preventivo per le partite IVA, così il fisco tutor avvia la caccia ai dati. E poi Confindustria, prezzi e tassi bloccano l'economia italiana. Scenari, l'ABI conferma il calo dei prestiti per le imprese, stabili quelli per le famiglie, l'economia italiana è di fatto bloccata. Lo evidenzia il Centro Studi Confindustria nella congiuntura flash e lo conferma anche l'ABI, l'associazione delle banche italiane, secondo cui a giugno i prestiti dalle imprese sono scesi del 3,4%. E poi giocattoli, 4 big per 100 miliardi. Sfida tra Mattel, Hasbro, Lego e Bandai, Namco. Sfida per 4 big per 100 miliardi di valore. Possiamo andare adesso sui giornali locali, cominciando dal messaggero di Udine. Andiamo a vedere subito l'apertura del quotidiano, dell'edizione cittadina, dove si parla di condoni e di pochi incassi, che è un dato positivo perché vuol dire che il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni più virtuose, con la percentuale più bassa di irregolarità edilizie. Dunque sicuramente un dato questo positivo. E poi Udine, la fiera di stile innovazione, compie 70 anni. Si tratta di casa moderna. E poi vediamo per quanto riguarda la cronaca dopo la maxirissa, controllata a vista la piazza di Palmanova e ancora tenta di spegnere le fiamme. Un uomo di 61 anni rimane ustionato. Andiamo a vedere la pagina della città di Udine, la cronaca cittadina che è invece dedicata al questionario del Comune che chiede ai cittadini come vorrebbero arredare Piazza Garibaldi. Sul sito di Palazzo d'Aronco sarà pubblicato un questionario da compilare entro la fine dell'anno. Qui vediamo l'assessore Marchiol, si parla delle tappe di questo processo, non è un sondaggio ma un questionario perché il tema non è se penalizzare Piazza Garibaldi ma come arredarla e quindi ai cittadini va data la possibilità, va chiesto l'aiuto per capire quale arredamento, come vorrebbero che venisse sistemata Piazza Garibaldi. Non è una questione solo di parcheggi e di viabilità ma anche di estetica, come vorrebbero che Piazza Garibaldi diventasse dopo gli interventi previsti dal Comune. Andiamo a Pordenone e vediamo se il titolo di apertura del giornale è uguale a quello di Udine, è proprio così, si punta anche in questo caso sulle poche irregolarità edilizie della nostra Regione e dunque i pochi incassi che arrivano da quel fronte. Poi la foto qui al centro è quella di Simone Cristicchi adottato dal Friuli sul sigillo della città però è polemica la minoranza in Consiglio Comunale protesta per l'esclusione stasera al Teatro Verdi la consegna dell'importante riconoscimento dell'artista e in occasione dello spettacolo torneremo ancora a concerto mistico per Battiato. Eccolo qua, Simone Cristicchi. E poi andiamo a vedere qui nel taglio basso dove si parla di storia con Elisabeth, la maga che studia i segreti dell'astrofisica, è una friulana che ha vinto una prestigiosa borsa di studio all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, tra l'altro cintura nera di karate e suona anche il pianoforte oltre ad essere una runner. Complimenti ad Elisabeth. E poi per quanto riguarda lo sport, calcio, c'è il Geno al Friuli, l'Udinese prova a uscire dal tunnel, il Geno alla Blue Energy Stadium che oggi fa il suo esordio, lo stadio oggi fa il suo esordio con la nuova denominazione commerciale che è della Blue Energy, dunque già partner di Udinese storica per quanto riguarda lo sponsor di Retromaglie e da altre iniziative, da oggi Blue Energy Stadium è la denominazione commerciale dello stadio dove l'Udinese giocherà, e questo lo sarà per i prossimi cinque anni, le partite interne. Siamo adesso sulla pagina della cronaca di Pordenone, ci spostiamo dunque a leggere più nel dettaglio le notizie che riguardano la città. In via Pressacco, il campus di Udine al Valle Center Isia e Corsi di Trieste, il presidente del consorzio Candotti, grazie alla formazione, una nuova prospettiva per Pordenone, viene espressa poi tutta la sua soddisfazione in questa intervista, questo virgolettato che troviamo sulla stessa pagina di Pordenone, vediamo anche sull'altra pagina, l'argomento si estende su due pagine, nel rudere della stazione ci sarà un'area salotto invece per i studenti, e vediamo anche qui a destra invece per quanto riguarda gli spazi dedicati al tempo libero e allo sport, campi alternativi per giocare a basket, l'impegno del comune, spazi liberi durante il cantiere, De Bortoli sul progetto, due piastre vicino alla Collodi. Andiamo adesso a vedere il piccolo edizione di Trieste, l'edizione della città che parla di turismo e di una città che fa il pieno, hotel verso il sold out, file in bar e locali, prenotazione al completo anche per la prossima settimana che coinciderà con la Barcolana e dunque questo sicuramente è uno dei motivi per cui la città non ha più posti letto disponibili, c'è il sold out, vediamo invece sotto la testata i cent'anni dell'università e qui vediamo una foto in cui il Papa, fu ospite dell'università di Trieste, passò in rassegna, ecco vedete qui la foto d'epoca e ci spostiamo adesso su altri giornali dal piccolo di Trieste, andiamo a dare un'occhiata adesso al gazzettino, il gazzettino che abbiamo già letto nella sua pagina dell'edizione generale, adesso invece andremo a soffermarci su quella dedicata al Friuli, edilizia in apnea, attese di due anni, questo è un altro aspetto dell'edilizia, abbiamo visto prima l'aspetto virtuoso della Regione che presenta poche irregolarità e dunque di contro, pochi incassi da questo punto di vista per molte sanzioni relative ad abusi edilizi, sì, ma c'è un altro problema in edilizia, è che il settore è in apnea perché non riesce a smaltire la domanda che c'è di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o comunque di altri interventi che non siano legati a quelli per i quali sono scadenze impellenti, il PNRR per esempio, oppure i lavori per i super bonus e ancora la manutenzione per i danni causati dalla grandinata di qualche tempo fa. L'imprenditore, chi non si è prenotato deve aspettare, gli artigiani lanciano l'allarme, sempre meno aziende, la mission impossible per ristrutturare in Friuli, super bonus e maltempo, soffocano le aziende e i cittadini. Sulla prima del Friuli c'è anche lo sport e c'è anche il sottile che dalla carica ludinese, abbiamo la qualità per vincere, le parole del tecnico rilasciate ieri in conferenza stampa, e poi la cronaca con l'assalto alla concessionaria, guardie speronate, colpo fallito all'auto Torino di Tavagnacco, l'allarme salva le auto, incidente nella fuga. Andiamo adesso a parlare ancora di cronaca, dando un'occhiata anche a quello che scrive il Corriere del Veneto, tradizione Treviso e Belluno, appena fuori dai confini della nostra regione, giù i prezzi, firmano 1.600 negozi, commercio, andiamo a vedere, ribassi e tariffe bloccate, la proposta del governo e le reazioni, il vulnus, non c'è l'obbligo di specificare i prodotti, trimestre anti-inflazione, fioccano le adesioni in Veneto, consumatori divisi, CGL, scettica, 5 bus pieni di migranti in 2 ore, ma ce ne andremo presto dall'Italia, una mattina al centro di smistamento di Marghera per capire come si muovono i flussi, la direzione di questo fenomeno, 5 bus pieni in 2 ore, ma molti dicono ce ne andremo presto dall'Italia che viene utilizzata solo come porta di ingresso all'Europa. Il clima e il turismo che cambia, mare e lago, settembre con il 90% delle camere prenotate. E poi anche qui la notizia della tragedia che abbiamo letto anche già sul gazzettino dell'autista di un camion ucciso dalla sponda del suo mezzo che è caduta, gli è caduta addosso, non lasciandogli alcuna possibilità di scampo. Il gazzettino adesso lo andiamo a rileggere per quanto riguarda le pagine sportive, aprire dunque la parte sportiva della nostra rassegna sotto il giura, non siamo all'ultima spiaggia ed è giusto anche affrontare la partita così perché in questo momento non si può parlare di ultima spiaggia per nessuna squadra, per nessuna partita, mentre le buone notizie arrivano dagli under 19, cioè dalla primavera 2 che fa il pieno grazie a Diavarà e Asante che consentono di vincere la gara in trasferta contro il Renate che ieri abbiamo trasmesso in diretta ed oggi nell'appuntamento con Studio Sport che riparte con la conduzione di Eleonora Nocent ci sarà proprio il tecnico della primavera Igor Bubnic a parlare di questo buon momento della sua squadra che arriva tra Coppa Italia e Campionato da tre vittorie consecutive. Ma torniamo alla Serie A, prima di continuare a sfogliare i giornali vediamo i risultati degli anticipi che si sono giocati di questa giornata che è la numero 7, il Napoli ha strapazzato il Lecce 4 a 0, tornando dunque il Napoli bello del campionato scorso dopo qualche problema in questa stagione, le ultime due partite il Napoli ha fatto 4 gol all'Udinese, 4 a Lecce e si ricandida dunque ad un ruolo da protagonista, il Milan ha battuto la Lazio 2 a 0 e l'Inter con tanta sofferenza, ha vinto 4 a 0, il risultato è molto largo ma non fotografa esattamente lo svolgimento della partita che la Serenitana aveva anche riacciuffato dopo 1 a 0 di Lautaro Martinez che ne ha fatti 4 per inciso, il poker di Martinez ieri tra l'altro subentato dalla panchina, Serenitana che aveva pareggiato ma il gol era in fuorigioco per cui l'Inter da quel momento in poi nel finale ha dilagato con il Toro Martinez che ha fatto la differenza. Queste le altre partite previste per il turno numero 7, Bologna-Empoli, Udinese-Geno, Roma-Frosinone, Atalanta-Juventus, Sassuolo-Monza, Torino e la Sverona, Fiorentina-Cagliari. La classifica in alto vede sempre l'Inter che è in testa con il Milan però che l'ha raggiunta dopo il successo di ieri e poi il Napoli a quota 14 quindi con 4 lunghezze di stacco la formazione azzurra con l'asterisco, vedete tutte le squadre che hanno già giocato, l'Udinese a quota 3 punti affronta oggi il Genoa che si trova a 7 ed è la prima delle squadre della parte destra della classifica insieme a Bologna-Verona e Lazio. Questa è la situazione per quanto riguarda le nostre grafiche di oggi, continuiamo a leggere i giornali e ci sono tanti articoli che riguardano il calcio dilettantistico e gli altri sport, ci spostiamo però sul basket dove oggi c'è l'esordio della Old World West Udine contro Nardò, si gioca a Lecce, da rossa a vise è un campo bollente, l'ala pivot dovrebbe partire nel quintetto base dell'Old World West contro Nardò, negli ultimi playoff ho visto come i giocatori sanno accendere il pubblico. Ha giocato anche Cividale ieri contro Verona, una partita che ha visto i Ducali essere in partita fino alla fine prima poi di cedere a Verona, ma Cividale ha dimostrato che si è rimessa in sesto dopo un precampionato non brillante e che sicuramente può recettare la sua parte in questo campionato di A2 molto competitivo. Andiamo a vedere adesso il messaggero di Udine, sempre per quanto riguarda le pagine sportive, leggiamo l'apertura, Udinese e il Genoa per uscire dalla crisi, piantati da due turni a quota 3 in zona retrocessione, i bianconeri devono sbloccarsi nel pomeriggio al Blue Energy Stadium dove potrebbero non mancare mosse a sorpresa secondo quanto scrive il messaggero. 12 risultati utili consecutivi con il Grifone sono i precedenti tra Udinese e Genoa, precedenti beneauguranti in questo caso. Continuiamo la rassegna per parlare di basket anche con il messaggero, qui c'è proprio l'articolo della partita, Gesteco non basta super redivo l'argentino tra Scine e Ducali ma alla fine Verona è più forte, decide una sgasata scaligere a metà dell'ultimo quarto, 6-6-7-2 il punteggio di questa partita che ha visto comunque, come dicevamo, Cividale in corsa. Apu, primo crash test a Nardò, all'esordio dovrà fare senza Clark, l'americano e KO per una influenza, oggi a Lecce serviranno gli straordinari da rossa dalla carica, imponiamo la nostra qualità, vogliamo cominciare bene, partita che noi trasmetteremo in differita alle 22.30, questa sera subito dopo ogni Benedetta domenica il programma di approfondimento sui temi legati alla partita di calcio tra Odinese e Genova, curato e condotto da Massimo Campazzo. Ci spostiamo adesso dal messaggero alle pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Le prime pagine che vi leggiamo sono la Gazzetta, il Corriere dello Sport e il Tutto Sport. Vediamo lettura della Gazzetta che celebra il Lautarissimo. L'argentino dell'Inter entra e spacca la Salernitana con quattro reti in 27 minuti, nessuno come lui in sedie A. E poi continua il testa a testa col nero azzurro nella storia, il comando grandi solisti e bel gioco, il nero azzurro nella storia, si punta a creare la squadra ideale dell'Inter di tutti i tempi. E poi il milanissimo che ripresa, Lazio battuta, Leao inventa per i nuovi, Pulisic e Okafor a segno. Una partita che il Milan ha portato a casa, nonostante una buona Lazio, con una pressione nella parte finale del match tra metà secondo tempo e fine match. Il Napoli vola, Ozymen non fa festa, Ozymen segna ma non esulta, non festeggia. Timidi abbracci di Victor e poi Juve a Bergamo. Gasp contro Max vale per il podio. Questa è la prima della gazzetta, andiamo anche sul Corriere dello Sport che titola così Beato chi li ha, Toro entra ed esagera, Pioli stende la Lazio. L'argentino Stradipante a Salerno finisce 4 a 0, il portoghese ispira Pulisic e Okafor finisce 2 a 0. Sarri Furioso non siamo una grande. E poi qui al centro della pagina Napoli, doppio poker dopo l'Udinese, travolge anche il Lecce e avvisa il Real Madrid, prossimo avversario in Champions League. Juve c'è Ken con Chiesa, fuori Vlaovic e Milik. Allegri in emergenza contro l'Atalanta, si gioca alle 18. Poi la Roma, Murigno reagisce, non sono io il problema. La Roma cerca il rilancio contro il Frosinone, si gioca questa sera alle 20.45 e poi il calcio estero in Inghilterra e Olanda, Liverpool, il VAR sbaglia e si scusa e poi il portiere che sviene in campo è avvenuto in Olanda. Queste le notizie sul Corriere dello Sport. Andiamo sul tutto sport che apre così sulla Juventus, aggrappati a Chiesa aspettando il Diz, Vlaovic e Milik danno Forfè, la Juve a Ken, ma non solo lui, scrive il tutto sport, a Bergamo contro l'Atalanta, un attacco alternativo. Si candida anche il Bebi turco, Allegri e Pioli botte risposta, Esti Garibia, rivedo la squadra di Conte, dove c'ero io. E poi di spalla andiamo a leggere anche del Napoli, Osman e Quara risposte da Napoli, Lecce che botta e poi Lecce è tornato un po' nei ranghi considerando che ha affrontato nelle ultime due partite Juventus e Napoli e le ha perse entrambe dopo essere arrivato a queste partite da imbattuto. Giuric sotto esame, il Toro deve fare un salto di qualità, due punti in meno rispetto all'anno fa, sempre passi indietro dopo timidi progressi, ora si deve alzare il livello. Ma andiamo a leggere anche di altro, in basso a centro pagina, basket, parte anche la A2, provaci ancora Torino, Torino che è nel girone di Udine, di Trieste e di Cividale, e poi Premier da pazzi, Crisetta City, Guardiola gelato, De Zerbi travolto, Liverpool shock, l'Arsenal sale a meno uno dalla vetta con il Tottenham che beffa i Reds in nove, autogol al 96esimo, il Brighton invece ne becca sei. Il Brighton dei miracoli di De Zerbi becca sei gol nella partita che lo ha visto protagonista assolutamente di dei negativo. Siamo giunti al termine di questa rassegna, vi faccio vedere quali sono i programmi principali di oggi, oggi c'è la partita, come dicevamo, dunque tutto ruota intorno al match tra Udinese e Genoa, andiamo a leggere i programmi, alle 12 c'è la replica di questa nostra rassegna stampa, poi Udinese storia alle 13.30 per i precedenti tra Udinese e Genoa, e poi studio e stadio dalle 14 con Alice Mattelone sui ospiti in studio, alle 18.15 cambio di guardia con Eleonora Annocente che prenderà in mano il tardo pomeriggio sportivo, occupandosi di palacanestro, di giovanili dell'Udinese, ma anche naturalmente dell'Udinese per quanto riguarda la partita udinese e Genoa. E poi questa sera il focus sul match della Buenegy Stadium con Massimo Campazzo e la sua ogni benedetta domenica, un programma ricchissimo che si chiuderà soltanto con il match indifferita tra Nardò e Old World West Udine che trasmetteremo a partire dalle 22.30, una domenica sportiva da non perdere sul nostro canale. Io vi auguro buon proseguimento di domenica e vi lascio al meteo subito dopo la sigla della nostra rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Grazie per aver guardato il video.